Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Calabria News 24. E' stato arrestato ad Amsterdam Gioacchino Bonarrigo, 33 anni, latitante dal 2011, quando evase dai domiciliari tutti i particolari nel servizio. E' stato arrestato ad Amsterdam Gioacchino Bonarrigo, 33 anni, 5 frondi, latitante dal luglio 2011, quando evase dai domiciliari. Bonarrigo, ritenuto elemento di spicco della cosca Bellocco, operante nel Reggino e con ramificazioni in Italia e all'estero, è accusato di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga. L'uomo è stato arrestato dalla polizia olandese insieme ai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria. Il destinatario di mandato di arresto europeo da luglio 2011 era ricercato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Reggio Calabria su richiesta della DDA Reggina per associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Inoltre, il destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura di Palmi, dovendo scontare due anni e 19 giorni di reclusione per reati in materia di armi e ricettazione. Fondamentale ai fini dell'individuazione del latitante si è rivelata l'attività di ricerca che la polizia olandese ha avviato su input dei carabinieri di Reggio sotto la direzione della DDA. In particolare, dalla collaborazione tra i carabinieri e la polizia olandese e dall'opera di raccordo, ininterrottamente assicurata dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, lo SHIP, è emesso che il latitante sotto false generalità era solito muoversi in vari paesi della comunità europea, tra cui prevalentemente l'Olanda. Nella mattinata del 6 settembre scorso, in un quartiere centrale della capitale olandese, è stata individuata l'area dove Bonarrigo aveva trovato rifugio. I servizi di osservazione, andati avanti sino al giorno dopo, hanno consentito poi di bloccare in strada il ricercato. All'operazione hanno partecipato i carabinieri del reparto operativo del Comando Provinciale di Reggio e quelli del neocostituito gruppo di Gioia Tauro, presenti in ogni fase, sia per l'individuazione e sia per il riconoscimento immediato di Bonarrigo. Il piccolo Sisse, bimbo di 5 anni, sbarcato senza genitori al porto di Corigliano Calabro, potrà riabbracciare finalmente la sua mamma. Una storia a lieto fine, iniziata certamente nel peggiore dei modi, ma finita ora decisamente bene. Il piccolo Sisse, bambino di 5 anni, sbarcato nel porto di Corigliano senza genitori, dopo aver ritrovato il padre, a breve riabbracerà anche sua madre. Dai viaggi della speranza fino al ricongiuggimento del nucleo familiare, la vicenda è stata abbastanza complessa, ma grazie al lavoro delle istituzioni e in particolare del leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, il lieto fine è arrivato. In un primo momento, infatti, era stato rintracciato il padre del bimbo che viveva in Francia, mentre la mamma era rimasta prigioniera in Libia. Il clamore mediatico, probabilmente, ha convinto i rapitori a liberare la donna, che ha potuto così raggiungere la costa d'Avorio e a breve tornerà in Italia, dove potrà finalmente riabbracciare il figlio da cui era stata separata. E il Comune di Cosenza aderisce alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Anche l'amministrazione comunale di Cosenza ha aderito alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, che va dal 16 al 22 settembre. L'obiettivo è promuovere l'utilizzo dei mezzi di trasporto alternativi, ovvero lasciare la propria automobile spostarsi laddove possibile a piedo in bicicletta o con mezzi pubblici per combattere l'inquinamento atmosferico e acustico che possono provocare danni alla salute, ma anche gli incidenti stradali. Il primo appuntamento organizzato è stato l'esposizione in Piazza dei Bruzzi di veicoli ecosostenibili. Proprio ieri in televisione hanno dato un dato scomportante. L'inquinamento vale un numero elevato di decessi in Italia che equivale a 4.000 unità all'anno. Noi cerchiamo con questo di contribuire ad invogliare le persone ad utilizzare i mezzi pubblici, le bici elettriche e soprattutto per l'ultimo provvedimento che abbiamo adottato per quanto riguarda le scuole di via Misasi, dove abbiamo creato una piazza, il concetto qual è? Questi istituti si trovano nei quartieri, quindi i ragazzi iscritti sono nelle zone limitrofi, quindi accompagnare fin quando è possibile, fin quando il tempo regge, i bambini a scuola è anche un momento salutare, è anche un momento per fargli apprezzare la città in tutti i suoi aspetti. Cambiamo argomento, ci spostiamo nella Locride, dove domani sarà inaugurata una scuola innovativa e strategica. A Locride si inaugura una scuola, un nuovo plesso scolastico, che risulta una infrastruttura di altissimo livello tecnologico e soprattutto una scuola che può rappresentare un insediamento pilota per l'edilizia scolastica a livello nazionale. Noi abbiamo incontrato il progettista e il direttore dei lavori, l'ingegnere Francesco Di Santo, per sapere in effetti come si è arrivata alla realizzazione di un plesso scolastico così innovativo e così strategico in una delle zone più discusse della Calabria, la Locride, è la capitale della Locride, Locride. Si è partito con uno studio sull'architettura innovativa a livello didattico, dove il fulcro di tutta la panimetria dell'edificio è nella Lago Rà. Lago Rà non è altro che una piazza all'interno di questa grande struttura a un unico livello, struttura costruita in legno lamellare, quindi ad alta efficienza sismica. Si è badato in modo particolare al bambino. Il bambino deve crescere e quindi deve avere tutti gli stimoli necessari affinché l'ambiente dove vive, a scuola, sia un ambiente piacevole e gradevole. In effetti quest'opera così strategica, necessaria perché oggi si possa dare sicurezza ad un plesso scolastico e anche serenità ai genitori. Quanto è costata e con che fondi è stata realizzata? L'opera è costata un milione e sette, compreso i diva. Al netto è costata un milione e tre, considerando che la superficie dell'imbronda è 1800 metri quadrati e costata inferiore a 800 euro al metro quadrato. È stata fatta questa grande opera con nuove sezioni perché raggruppa tutte le sezioni dell'infanzia all'interno di questo polo scolastico, dove questo polo non è solo un edificio ma un'area di 4.000 metri quadrati a servizio di tutta la cittadinanza dell'infanzia. Dove si sono trovati questi fondi? I fondi si sono trovati, una parte è stata cofinanziata dal Comune di Locri tramite il Forever Decreto Fortunio e gli altri 800.000 euro sono stati finanziati con il Decreto Mutuo Bay. Noi abbiamo lavorato in sinergia sia con la struttura di coordinamento del Consiglio dei Ministri sia con la struttura di coesione che ci ha supportato in tutte le fasi operative. Insomma, finalmente la Calabria, a partire dalla Locri e dalla Locri, incomincia a dotarsi di strutture scolastiche di grande livello e sicura. Una mostra ospitata al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria racconta la storia greca delle due città dello Stretto, Zangle e Region. Reggio e Messina, due antiche polisse greche sulle sponde dello Stretto, tornano ad unirsi a distanze di 2700 anni. L'occasione è data dalla mostra Zangle e Region, ospitata al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria che raccoglie per la prima volta in un'unica esposizione 300 reperti delle due città di epoca magno-greca, molti dei quali legati allo stile calcidese, regione greca dalla quale partirono i coloni che fondarono le due città. Si tratta di un lungo percorso archeologico comune, all'interno del quale si rivivono momenti di esaltazione storica, quando le due città dominavano lo Stretto, condizionando tutto il traffico navale antico, condividendo le fasi più significative della magnificenza del periodo d'oro delle polisse greche in Occidente. La mostra Zangle e Region resterà visibile fino al 31 gennaio 2018 e sancisce anche una rinnovata sinergia tra i rispettivi musei archeologici. Racconta una storia straordinaria, racconta la storia dello stretto che era una rotta obbligata, un passaggio obbligato e che rappresentava la porta verso il terreno, la porta verso quei mercati, quelle colonie della Campania, ma anche del centro Italia e poi della ricchissima Etruria. Quindi quando i calcidesi alla fine dell'VIII secolo a.C. decisero di fondare prima Zangle e poi Region, lo fecero con una grande lungimiranza, con una grande strategia, perché sapevano che i commerci in un modo o nell'altro attraverso lo Stretto dovevano passare. E cambiamo nuovamente argomento. A Maierato, la 34esima Sagra della Salsiccia esalta non solo le abilità culinarie delle cuoche locali, ma rinverdisce le tradizioni del territorio, il tutto sotto i buoni auspici del parroco. Ascoltiamo. La gola, si sa, è uno dei sette vizi capitali della dottrina cattolica, che vede nell'abbandone, nell'esagerazione dei piaceri della tavola, la perdita totale del senso della misura e quindi della capacità di provare piacere reale per ciò che si sta gustando. Ma se il cibo ingerito con moderazione lo si vede, quale momento di aggregazione e di cittadini di una stessa comunità, allora anche una chiesa se ne può servire per portare avanti il suo messaggio. E' quello che succede a Maierato ormai da 34 anni, dove le cofraternite prime e il comitato unico per le feste parrocchiali poi hanno organizzato la Sagra della Salsiccia, una gara culinaria tra i migliori cuochi dilettanti del paese. Il tutto in armonia e in allegria per celebrare ancora meglio la festa in onore di Maria Santissima della Providenza e di San Francesco d'Assisi. La festa religiosa costituisce l'identità di questa realtà maieratana, più feste religiose quella di San Rocco e quella della Madonna della Providenza e sono l'ossatura dell'identità sociale, questa gente quando va via si porta dietro queste feste. Il momento di aggregazione è perché intorno alla festa religiosa si sviluppa poi anche l'aggregato civile e quindi il modo di ritrovarsi anche se vuoi affrontare le cose insieme, soprattutto per la stagione prossima che si apre che per i contadini è fondamentale. L'aspetto culinario per ora rappresenta la tradizione tipica dei nostri territori. Assolutamente sì, proprio provenendo da questo ambiente rurale le persone ovviamente sono abituate a mangiare bene, non c'è bisogno di andare a trovare le etichette biologiche, nel senso che qua ognuno si coltiva le proprie cose, alleva gli animali e la salsiccia maieratana è stata una delle cose che ha contraddistinto questo territorio, vuoi per la qualità della carne e vuoi anche per la qualità della cucina che qui si può ancora consumare in modo ottimo direi. Il fatto che sia il parroco della comunità a condurre anche in maniera un po' gogliardica queste serate aiuta a far coincidere gli aspetti religiosi a quelli civili? Beh, Papa Francesco insiste tanto di una chiesa che va verso la gente, non che sia rintanata diciamo nelle quattro mura, quindi un modo per incontrare le persone da una parte, parlare anche un linguaggio accessibile, spesso il nostro linguaggio teologhese non è che sempre viene capito e quindi penso che mediare dei contenuti culturali che provengano dal Vangelo in un modo di stare insieme, che sappia di divertimento e soprattutto di allegria pura, di gioia sana, beh penso che questo sia anche il ruolo di un parroco, comunque stare insieme alle persone forse è la prima cosa e poi dopo veicolare i vari messaggi che comunque portiamo sia a livello evangelico ma anche a livello sociale. Insiste nella sua battaglia la Vibonese dopo il rinvio da parte del Collegio di Garanzia del CONI. La Vibonese ha presentato il ricorso al TAR dell'Asio chiedendo la sospensiva della sentenza emessa dal Collegio di Garanzia del CONI venerdì scorso e di conseguenza l'immediata riemissione in serie C in attesa di entrare nel merito della vicenda. Il ricorso è già stato notificato alle parti in causa, la Lega Pro e la FIGC. Il presidente Pippo Caffo è stato dunque di parola, ha detto che non si sarebbe mai arreso e ha rilanciato preferendo non attendere neanche le motivazioni che il CONI avrebbe dovuto rendere note in questi giorni. La Vibonese dunque ha aperto un nuovo tavolo per far valere i suoi diritti nella convinzione di aver subito un'ingiustizia inspiegabile come ribadisce il direttore generale Simone Lo Schiavo. Noi non accettiamo la serie D, noi andremo avanti fino a che vi sarà possibile esperire gradi di giudizio. Ancora c'è un grado di giudizio della giustizia sportiva che dovrà decidere perché la sentenza è stata annullata ma è stata annullata con rinvio al primo grado di giudizio, quindi non è un annullamento definitivo. Abbiamo ancora delle possibilità giudiziarie e noi, come ha detto anche il nostro presidente Caffo, non ci arrenderemo sicuramente perché finché c'è la possibilità di avere giustizia e di ottenere quello che era un diritto già acquisito da una sentenza della Corte d'Appello federale, noi andremo avanti. Intanto rimane da sciogliere l'ultimo enigma. La Vibonese risponderà all'invito della Lega di Lettanti scendendo in campo domenica per giocare la partita di serie D col Portici e cosa comporterà questo? Non lo ritengo pregiudizievole per un'eventuale riammissione in serie C, anche perché c'è ancora una strada giuridica da percorrere nelle serie opportune giudiziarie. Domenica fino a prova contraria dovremmo in teoria scendere in campo con il Portici perché vi è stato un annullamento della sentenza che riporta la situazione giuridica antecedentemente al 24 agosto, data in cui eravamo in serie D. Però non per questo noi accetteremo mai questa decisione. Ma non è tutto, perché la questione potrebbe essere affrontata non solo dai giudici amministrativi ma anche da quelli ordinari, visto che l'intenzione della Vibonese è denunciare gravine la Lega Pro per omissioni dati d'ufficio. L'obiettivo è quello di tornare subito tra i professionisti facendo leva sulla sentenza della Corte federale d'appello, il massimo organo della giustizia federale, è anche l'unico fin qui ad essere entrato nel merito della questione spiegando chiaramente tutte le ragioni in favore della Vibonese. Noi vogliamo vederci chiaro in ordine a questa vicenda perché abbiamo subito sconvolgimenti da tutti i punti di vista, giudiziari e motivi, siamo stati riammessi in serie C, poi per 12 giorni non abbiamo avuto certezze in ordine alla categoria con una sentenza immediatamente esecutiva, avevamo garanzie perché è una sentenza a cui non viene dato temperanza, diciamo è un unicum, un caso giudiziario unico nel nostro ordinamento perché l'esecuzione non è stata data per ben 12 giorni, parliamo dal 24 agosto al 5 di settembre data la sospensiva, quindi noi per 12 giorni siamo stati in serie C, qualcuno ci dovrà spiegare cosa è successo, qualcuno ci dovrà spiegare perché noi non siamo stati riammessi e poi eventualmente la Lega e la FGC avrebbero potuto fare, la Lega Pro e la FGC avrebbero potuto in seguito alla nostra riammissione a dire le competenti autorità giudiziarie, ma perché non siamo stati riammessi subito. E concludiamo con un ultimo servizio, l'ex campione del mondo Bruno Conti fa visita ad una scuola calcio calabrese. I grandi campioni possono essere uno stimolo soprattutto per i più piccoli che si avvicinano a uno sport come il calcio, va letta sotto quest'ottica la presenza di Bruno Conti nella sede dell'Associazione Sportiva dell'Ettantistica Soccer di Montalto Fugo, centro alle porte di Cosenza, ma il suo arrivo in Calabria è motivato anche dall'affiliazione della società di Montalto alla Roma Academy. Il campione del mondo 82 è infatti anche responsabile del settore giovanile della Roma, una società che vuole trovare in casa il nuovo Totti. Beh è chiaro che anche nell'ambito, se vogliamo, nostro, anche di nazionali e quando si parla di vivai noi cerchiamo sempre di crescere dei ragazzi in famiglia, per cui se creiamo quest'academy è proprio per trovare ragazzi italiani che ci sono anche interessanti. Puntare sui giovani significa investire nel futuro di un club, ma anche di una nazionale che recentemente ha messo in mostra limiti qualitativi nei confronti di una nazione come la Spagna che ha sempre investito nei settori giovanili. Vediamo che tutte le società cominciano anche a livello di investimento a investire sui vivai e ricominciano a scoprire i vivai perché chiaramente ci sono tanti problemi sotto l'aspetto economico e lavorare con i ragazzi, ne abbiamo anche bravi in Italia, e forse anche avere più responsabilità di far giocare questi ragazzi, si possono avere cose importanti. E anche per questa edizione è tutto, io vi aspetto alle 18 per ulteriori aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi, a più tardi e buon pomeriggio. Grazie per aver guardato il video.